Questi sono gli scavi di Veio e noi possiamo vedere in questo momento soltanto da questo punto di vista ci sono o dei turisti o degli studiosi che stanno guardando gli scavi di Veio e stanno tornando. Ricordiamoci che noi siamo nel cuore di Veio e non a caso noi vogliamo fare le nostre trasmissioni da questo posto perché noi vogliamo dimostrare che siamo pienamente radicati all'interno del territorio e come espressione fisica tangibile, psicofisica e morale di questo è storicamente reperibile, culturalmente reperibile di questa territorialità noi vogliamo fare anche le nostre denunce nell'interesse del popolo italiano. Buongiorno, stiamo chiudendo. Bene, adesso faccio appena appena una ripresa così, chiudete subito adesso? Stiamo andando però, stiamo andando, stiamo chiudendo. Quanto possiamo fare? Stiamo chiudendo. Allora va bene, è una cosa che abbiamo fatto una ripresa, prendi l'altra cosa? No, abbiamo semplicemente visto che era aperto. Il grande Ippocrate di Samo insegnava sotto il platano di Coos, l'isola in cui assieme a Crotone è nata la medicina nostra, europea. Ecco qui una pianta che non è ovviamente il platano di Coos, ma praticamente è la stessa cosa. Dopodiché noi faremo la nostra trasmissione facendovi vedere esattamente la denuncia che abbiamo fatto stamattina.